Come mai le gocce d'acqua sono sferiche? Anche questa è la fisica che non ti aspetti. Avete presente quegli insettini che sembrano camminare e stare in piedi sull'acqua? Come ci riescono? Beh, una risposta abbastanza ovvia potrebbe essere perché sono molto leggeri. Vero, ma in realtà la risposta non è questa e voglio provare a dimostrarvelo con un esperimento che dovete rifare assolutamente a casa. Per questo esperimento vi serviranno una graffetta di metallo, della carta assorbente meglio se un po' spessa e una bacinella piena d'acqua. Quindi la graffetta galleggia. Ma come mai? In teoria non dovrebbe farlo. Se ricordate il video sul principio di Archimede ricorderete che una condizione necessaria per poter galleggiare è che la densità dell'oggetto sia inferiore a quella del liquido in cui viene immerso, ma questo non è il caso. La graffetta non è una nave che è cava, vi ricordo, è di acciaio ma vuota e quindi con una densità media più bassa di quella dell'acqua. La graffetta è piena, è un filo di metallo pieno e quindi dovrebbe affondare, anzi, e quindi affonda tant'è che se voi la buttate con non curanza nell'acqua questa va a fondo immediatamente. Ma allora perché galleggia? Se ci fate caso, intorno alla graffetta c'è una leggera deformazione della superficie dell'acqua, come se la graffetta fosse in realtà appoggiata su una membrana elastica. Beh, non siamo molto lontani dalla realtà. Infatti la graffetta galleggia, grazie a una proprietà dell'acqua ma anche di tutti gli altri liquidi, nota come tensione superficiale. La tensione superficiale si manifesta proprio come una guaina elastica, come una resistenza da parte della superficie di un liquido ad essere penetrata. Alcuni liquidi hanno tensioni superficiali più grandi, altri liquidi hanno tensioni superficiali più piccole, ma tutti hanno una tensione superficiale. A questo punto bisogna chiedersi, come mai? Per capire perché esiste la tensione superficiale dobbiamo distinguere tra la condizione di una molecola che si trova al centro della goccia e la condizione di una molecola che si trova sulla superficie. La molecola che si trova all'interno della goccia, in quella regione che viene normalmente definita con il termine inglese bulk, è circondata da altre molecole simili e quindi può dare fondo a tutta la sua necessità di interazione. Le molecole in un liquido vengono tenute insieme da delle forze che prendono il nome generico di forze di coesione, ma che possono avere diversa natura. Nel caso dell'acqua queste forze sono di natura elettrostatica. Avevamo visto in un altro video che la molecola d'acqua è polare. In particolare l'atomo di ossigeno ha una carica parzialmente negativa, gli atomi di idrogeno hanno una carica parzialmente positiva. Quindi quando due molecole d'acqua si trovano vicine, l'atomo di ossigeno di una si orienterà in direzione dell'atomo o degli atomi di idrogeno dell'altra molecola. Quando questo incontro avviene nel bulk abbiamo molti legami possibili, molte interazioni tra le molecole d'acqua. Le molecole sulla superficie sono invece in una condizione diversa. Infatti da una parte vedono loro simili altre molecole d'acqua, dall'altra invece abbiamo l'aria che invece di molecole d'acqua non ne contiene quasi per nulla. Il risultato è che le molecole superficiali tendono a interagire con maggior forza tra di loro e questo genera una resistenza da parte loro a qualunque tipo di penetrazione o perturbazione, per l'appunto quella che normalmente chiamiamo tensione superficiale. Allora la graffetta galleggia perché vorrebbe rompere la tensione superficiale, vorrebbe separare le molecole d'acqua ma loro dicono no, noi rimaniamo unite tra di noi. Ovviamente il galleggiamento è possibile solo per oggetti abbastanza leggeri. La tensione superficiale dell'acqua pur essendo abbastanza elevata non è grandissima. Ci sono liquidi che hanno tensioni superficiali molto più grandi come per esempio il mercurio che a temperatura ambiente è un liquido. Comunque il fatto di non poter fare tutti i legami che vorrebbero è una cosa che alle molecole della superficie non piace. In pratica ogni corpo d'acqua, ogni goccia non vuole avere una superficie ma è costretta ad averla, è costretta ad avere una interfaccia con l'aria che la circonda. Allora ogni goccia cercherà di avere meno superficie possibile e tra tutti i solidi geometrici, fissato il volume, la sfera è quello con la superficie più piccola. La sfera è il solido con il rapporto superficie-volume più piccolo tra tutti. Tuttavia non è compito di un fisico dimostrare una cosa del genere ma di un matematico ed è per questo che lancio il guanto di sfida a MatMind. Naum, tocca a te dimostrarci o quantomeno convincerci che la sfera è davvero il solido con il rapporto superficie-volume più piccolo tra tutti. Ovviamente le gocce mantengono una forma sferica solo in assenza di gravità. Qui sulla terra ogni volta che la goccia cade si deforma, si allunga e prende la classica forma, beh, la classica forma a goccia. Bene ragazzi questo video finisce qui. Se questa curiosità vi è piaciuta e non la conoscevate, qui sotto trovate tutti i pulsantini per condividere questo video su tutti i social e vi invito a farlo. Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è la dove non ve l'aspettate.